Ciao, sono io, Maxine, dietro dei cespugli a spiare una ragazza. Non fraintendete, non ho una cotta per lei, ne sono una pazza totale. Faccio solo un favore al mio amico Damon, ma se avessi saputo come andava a finire, non avrei mai accettato d'aiutarlo. Tutto iniziò quando Damon si innamorò di Sophie. Aveva uno charme misterioso che lo invogliò subito a parlarle. E l'ha fatto! Ma lei non lo guardò nemmeno, se ne andò e basta. Non mi piaceva affatto, lei era così presuntuosa. Ma Damon non si arrese facilmente, provò tutti i tipi di trucchi per farsi notare, pure aspettare l'autobus con lei anche se aveva un'auto. Niente funzionava però, e questo lo intristiva. Mi chiese aiuto, ma io dissi, impossibile! Poi disse, oh dai Maxine, sei una ragazza, quindi facci amicizia o altro. Forse puoi scoprire cosa le piace, quali cibi, che musica, eccetera. Poi posso conquistarla. Per favore, ti supplico, ti presterò anche la mia Nintendo Switch per un mese se lo fai. Non puoi dire di no. Mi ha già convinto, farei di tutto per avere la Nintendo Switch. Bene, è fatta, ma non incolparmi se va male. Così dopo scuola di quel giorno cercai Sophie. Aspettava il bus e stavo per avvicinarmi, quando di colpo si allontanò. La seguì e lungo la strada si fermò ad aiutare una signora ad attraversare la strada. Wow, ero sorpresa! Per qualcuno con una faccia così fredda aveva un cuore caldo. Hmm, forse non era così male. Dopo iniziò ad andare verso il parco e intanto cominciava a fare buio. Cosa ci faceva qua? Si mise su una panchina in una parte strana del parco, come se aspettasse qualcuno. Mi misi dietro un cespuglio così che non mi vedesse. Ma ero così spaventata! Di colpo apparvero due tipi e parlarono con lei, ma non sembravano suoi conoscenti. Oddio, sembrava nel panico! Dovevo aiutarla! Ho gridato, aiuto, agente, aiutatemi! Ci sono due tipi che ci danno fastidio! Beh, non c'era nessun agente, ma funzionò. I due scapparono e corsi per controllare che Sophie stesse bene. Era sorpresa di vedermi, ma poi mi abbracciò e mi ringraziò per l'aiuto. Le tremava tutto il corpo. Doveva essere terrorizzata. L'accompagnai al dormitorio e mi disse che le piaceva venire al parco di notte perché era tranquillo. Le dissi che era pericoloso e che forse non doveva più andarci da sola. Poi ci siamo dati i numeri e da allora siamo diventate intime. Così tanto, che giorni dopo le dissi che Damon aveva una cotta per lei e le chiesi se magari sarebbe uscita con lui. Ma lei scosse la testa dicendo che non era pronta. Sembrava così triste, così non ho insistito di più. Forse aveva avuto una brutta rottura? Non glielo chiesi più. Ma una sera andai da lei per una serata a cinema quando sentii due persone litigare. Erano Sophie e un tipo e lei piangeva. Sembrava che lui stesse per colpirla. Così entrai e dissi Ehi, cosa diavolo pensi di fare? Lasciala stare o chiamo la polizia. Lui si mise a ridere e disse a Sophie Non abbiamo ancora finito. Poi se ne andò. Le chiesi se stava bene e chi fosse il tipo. Poi mi disse che lui era il suo ex e che continuava a cercare di tornare insieme con lei. Ma lei non voleva. Mentre mi raccontava, iniziò a piangere e disse Per colpa sua, sono molto spaventata e ansiosa. Ho pure paura di dormire la notte. Stavo così male per lei e dissi che ero sempre qui e poteva chiamarmi quando voleva. Beh, forse non avrei dovuto dirlo perché è proprio ciò che ha fatto dopo. Ogni notte mi chiamava e parlavamo fino alle tre del mattino. Ero così esausta ma volevo aiutarla. Sembrava sempre così ansiosa. Damon sapeva che parlavamo molto ma non chiese più di lei. Non le interessava ed era preoccupato che sembrassi uno zombie di The Walking Dead. Hai davvero bisogno di dormire, Maxine? Lascia stare Sophie. Ha chiaramente dei problemi ed è meglio non farsi coinvolgere troppo. Magari fosse così facile. Ma quella notte decisi di non risponderle. Andai a letto presto e quando mi svegliai la mattina avevo venti chiamate perse e cinquanta messaggi da lei. Oh mio Dio! Alcuni dicevano che era così sola e che l'ho abbandonata. Poi un altro o rispondi o la faccio finita. Ok, era folle. La chiamai subito ma nessuna risposta. Corsi al suo dormitorio ma non rispose. Ero ormai nel panico e battevo sulla porta urlando Sophie! Apri questa porta! Ma non c'era alcuna risposta. Temevo avesse fatto cose brutte così chiesi ad alcuni di aiutarmi a rompere la porta. E fu allora che l'ha aperta. Non fui mai così felice di vedere qualcuno vivo. Corsi ad abbracciarla ma sembrava infastidita. Cosa ci fai qui? Stai facendo una scenata? Disse. Cosa? Ero così preoccupata per te. Hai detto che stavi per... Ma lei mi fermò e disse Devi dormire un po' Maxine. Sembri pazza. Non ci credevo. Dopo tutte le chiamate e messaggi. Era lei la pazza, non io. Non avevo voglia di urlarle contro così l'ho lasciata. Avevo bisogno di spazio. Cercò di scusarsi con me nei giorni seguenti ma non volevo starle vicino. Mi scrisse che se non volevo essere sua amica allora non valeva la pena vivere. Ero così stanca delle sue minacce così le ignorai. Poi le cose peggiorarono. Giorni dopo io e Damon stavamo studiando quando Sophie chiamò e disse che era in ospedale. Mi disse che aveva un tumore al cervello e aveva fatto una biopsia per vedere se era maligno o benigno. Non potevo crederci. Mi chiese se potevo andare a prenderla e dissi Certo! Era così pauroso. Lo raccontai a Damon e disse Se lo sta inventando Maxine come può avere di colpo un tumore? Avete appena litigato e ora lei è in ospedale? Ma dai pensaci. Ero scioccata. Damon! Come hai potuto? Sei proprio un idiota! Poi corsi via e andai all'ospedale e trovai Sophie fuori con una cuffia d'ospedale. Le avevano rasato i capelli per la biopsia e chiesi di vedere la cicatrice ma non volle mostrarla. Le veniva il mal di testa se la toglieva. Ero solo contenta che stesse bene e la portai a casa. Facemmo pace e badai a lei per tutto il giorno. Sembrava così debole e non sopportavo vederla soffrire. Chiamai Damon per dirgli che mi doveva delle scuse e gli dissi di Sophie e lui disse solo Oh, wow, ok, scusa, spero stia bene. Ma alcuni giorni dopo mi chiamò e disse Ascolta Maxine, Sophie è una bugiarda, non ha fatto una biopsia. Prima l'ho urtata e lei è caduto il berretto e ha una testa piena di capelli lì sotto. Non possono ricrescere così in fretta. Perché avrebbe dovuto mentirmi? Non capivo. Dovevo sapere la verità così dopo lezione andai da lei. Lei aprì subito la porta e come previsto aveva tutti i capelli intatti. Forse sapeva che Damon me l'aveva detto e quindi non si era preoccupata di mentire. Questo mi fece infuriare. Cominciai a gridare contro di lei. Onestamente, Sophie, cosa non va in te? Perché fingere di essere malata così? Gli amici non fanno così. Sophie mi prese la mano e disse Maxine, scusa. Ero disperata solo perché mi mancavi e volevo ti interessassi di nuovo a me. Ho esagerato però. Ti prego, perdonami. Sei impazzita? Ho urlato. Ero preoccupatissima per te. Sei sicura che vada tutto bene in te? Sophie iniziò a sorridere in modo strano e disse L'unica cosa che non va bene per me è che sono innamorata di te, Maxine. Non mi lasciava la mano e io la fissavo scioccata. Cosa hai detto? Mi hai sentito. Ti amo. Poi rise in modo maniacale e disse Ti ho amato dal primo giorno che ci siamo incontrate. Sapevo che mi seguivi così finsi di essere in pericolo così venivi a salvarmi. Anche il mio ex era falso. Era solo uno dei miei amici che fingeva. Non vedi? Farei di tutto solo per avere la tua attenzione. Se questo non è amore allora cos'è? Non poteva essere vero. Rimasi il più calmo possibile e dissi Ascolta Sophie sono lusingata davvero lo sono ma sono etero ti vedo solo come un'amica ok? Ma Sophie non si arrese. Mi prese le mani di nuovo e disse Come fai a saperlo? Non hai provato ad amarmi? Dammi una possibilità e ti mostrerò cos'è il vero amore. Provai a lasciarle le mani ma era impossibile. Lei mi afferrò le mani sempre sempre più forte che mi fece così male. Mi guardò negli occhi e oddio era come se non la conoscessi più. Sembrava una persona pazza tipo una psicopatica. Poi parlò con un tono molto inquietante. Non puoi scappare da me ora sei mia. Ero spaventata dovevo andarmene. L'ho spintonata così forte che è caduta per terra e sono corsa fuori di lì come una pazza fino al mio dormitorio. Poi chiamai la polizia ma quando andarono da lei non c'era più. dissi dell'accaduto e mostrai loro una sua foto e non ci crederete in realtà non ero l'unica che Sofì aveva attaccato ce n'erano anche altre. Dopo quella notte ero terrorizzata. Ovunque andassi mi sentivo osservata da qualcuno. Poi una sera dopo lavoro camminavo nel parco per tornare al dormitorio quando sentii qualcuno. Capii subito che era Sofì ma non era sola era con alcuni tipi. mi videro e iniziarono a venire verso di me ma corsi il più veloce possibile e per fortuna la polizia era lì fuori entrò nel parco e li arrestò. Sembra una coincidenza vero? Beh non lo era. Sofì non è l'unica che sa ingannare le persone. Sapevo che mi pedinava così lo dissi alla polizia e creammo un piano per catturarla. Et voilà funzionò. Sofì se mi stai guardando ti auguro tutto il meglio ma non vediamoci mai più sono stata stalkerata abbastanza.